Nuage di Django Reynard, un altro bellissimo brano, è una ballad conosciutissima soprattutto per chi ama il jazz gitano, il jazz tipico che fuoriusciva dalle corde di Django Reynard e per chi non lo conoscesse, simbolo del maestro della chitarra gypsy jazz, ovvero della chitarra gitana come è stata definita, maestro della chitarra in generale e ha ispirato tantissimi musicisti e non solo chitarristi ma anche altri strumentisti, che dire, maestro per noi chitarristi jazz e oggi andremo ad analizzare Nuage, che significa nuvole, un brano stupendo, a tratti, come dire, melanconico, struggente, ma veramente poetico e oggi lo analizzeremo insieme in questa analisi armonica Ok, allora, prima cosa, segniamo i 2,5, le risoluzioni delle dominanti, che siano dominanti secondari, dominanti estese e dominanti che risolvono cromaticamente Eccoci qua Freccia tratteggiata significa soluzione cromatica Magari potrebbe, per qualcuno poteva sembrare qualcosa di impossibile analizzare questo brano Invece oggi vedremo insieme almeno questa versione su questo libro Magari voi avete un'altra versione, però ho trovato questa Scusate Ho messo il grado Questo Sol 7 me lo tolgo perché io non lo sento nella versione, sinceramente Ok Ok 2,5 Scusate la Sempre la Scrittura Ok, andiamo avanti Se sei qua per la prima volta iscriviti al canale poiché troverai altre analisi armoniche, tutorial di chitarra jazz, spartiti, trascrizioni e tanto altro Ok Analizziamo subito, come Velocemente, come dico sempre Allora Prima di tutto la tonalità Qua ci sono tre bemolle in chiave, significa che siamo o in mi bemolle maggiore o in do minore Siamo in mi bemolle maggiore, ce lo dice anche l'ultimo accordo Ok Allora, qua usa un espediente armonico molto interessante, nel senso che fa scivolare dei 2,5 Cromaticamente Questo sol bemolle minore ovviamente è come se fosse fa diesis, ok Scusate la scrittura, sono col mouse E questo do bemolle ovviamente è come se fosse un si settima E infatti questo si settima risolve cromaticamente sul si bemolle settimo, ok Quindi è una sostituzione di tritono, no? Qua è come se ci dovesse essere in armonia di base un fa settima sul do bemolle settimo, ok E il sol bemolle minore settima non è nient'altro che un 2 relativo della sostituzione di tritono Quindi ovviamente sul sol bemolle è sempre dorico Sul do bemolle settima è l'ideandominant Poi qua invece di usare un 2,5 maggiore usa un 2,5 minore Della appunto fa minore semidiminuito e si bemolle settima e mette anche un bemolle 9 Quindi in questo caso nel secondo minore settima e bemolle 5 si usa un locrio Scusate la scrittura E sul si bemolle settima o usate di default una misolidia bemolle 13, bemolle 9 O se no, visto che comunque andrà a risolvere su un maggiore C'è solo scritto bemolle 9, potreste usare anche solamente una bemolle 9 Quindi vedete voi se usare una bemolle 9 e bemolle 13 o usare solo una bemolle 9, ok Bemolle ovviamente mi bemolle maggiore il primo grado E fa minore settima il secondo grado in questo caso non minore, cioè non semidiminuito Quindi ovviamente sul primo grado ionio, sul secondo dorico Questo un terzo, minore settima, si usa un frigio E poi qua le stesse cose qua, le stesse cose che dicevamo sopra, ok Quindi valgono le stesse regole, ok Finché arriviamo a questo la bemolle maggiore settima, che è il quarto grado In relazione al mi bemolle maggiore Si usa un lidio Ok, questo sol settimo l'ho tolto perché, come dicevo prima, io non lo sento nella registrazione Ma sento proprio che va a un re minore settima, bemolle 5 In questo caso, in relazione al mi bemolle, è un settimo grado E quindi si usa il locrio E si userebbe anche se fosse un accordo semidiminuito comunque Questo sol settima è il quinto del sesto Quinto del sesto E si usa una misolidia, bemolle 9, bemolle 13 Ok, che va a risolvere su questo sesto grado, che è il do minore settima E su questo sesto usiamo un eolio, ovvero la scala minore naturale Su questo quinto del sesto, stessa cosa di prima Misolidia, bemolle 9, bemolle 13 Questo sempre sesto grado, stessa cosa Questo fa settima e questo mi settima Questo fa settima ha sempre la stessa funzione del quinto del quinto Anche qua, quinto del quinto E il quinto qual è? Questo si bemolle, settima Ok Qua semplicemente fa un movimento armonico per dare varietà a una stasi A uno stallo melodico che appunto rimane una nota lunga Che vale tre quarti e quindi fa questo movimento armonico Ok, sul fa settima, misolidio Io sul mi settima, da un punto di vista che è molto vicino al fa settima Vi consiglierei un misolidio, bemolle 9, bemolle 13 Anche se è un passaggio talmente veloce che basta che fate sentire un arpeggio E insomma, forse è più funzionale Quindi misolidio anche qua Qua quinto grado, misolidio Questo è il secondo Quinto Dorico Misolidio Ovviamente questo quinto doveva risolvere È pensato che questo quinto risolverebbe qua Però poi ovviamente riparte questo cliché Di 2-5-1 che risolvono cromaticamente Che è anche un po' la peculiarità di questo brano Quindi queste cose, stesse cose che dicevamo qui sopra Cavoli col mouse è proprio E vabbè Allora, primo Quindi andiamo avanti Questa stessa analisi di qua sopra Andiamo questo sempre primo Ionio Qua c'è giusto Usa lo stesso espediente armonico Solo per andare a risolvere invece sul quarto grado, ok? Quindi anche questo qua Questo si minore settima Questo mi settima Il mi settima è come se fosse in questo caso Si bemolle settima Che in teoria Nella base Teoria di base Andrebbe a risolvere sul mi bemolle settima Ma ovviamente usa La sostituzione di tritono Del si bemolle settima E usa un mi settima, ok? Qui su questo mi settima Lidian dominant E ovviamente sul si minore settima Che è il secondo grado relativo di questa sostituzione di tritono Sempre dorico Ok? Ok, anche se qua c'è un fa Comunque è una nota che dura poco nella melodia Quindi non sto lì a segnare una bemolle 9, ok? Poi se avete dei dubbi scrivetemi sempre nei commenti Quindi anche qua utilizza Questo è il quinto Del quarto Però che viene accompagnato da un secondo grado Minore Semidiminuito Quindi l'ocrio Ok, sul quinto del quarto Solitamente si usa una misolidia Però qua è specificato bemolle 9 Quindi potete usare una misolidia Bemolle 9 E quando c'è il quinto del quarto Solitamente è come se fosse una mini modulazione Come sto dicendo in un po' di analisi Quindi su questo la bemolle maggiore Si dovrebbe utilizzare una ionia Come se c'è una tonicizzazione dell'accordo Per breve tempo Ok, poi questo la bemolle maggiore settima Diventa una bemolle minore settima Questo la bemolle minore settima Non è intanto che un secondo grado relativo Del bemolle settima Perché questo re bemolle settima È un bemolle settima Di dominante Che proviene dalla armonizzazione Della scala minore naturale Del mi bemolle E si usa solitamente di default Lidian dominant Perché viene alzato il quarto grado Del re bemolle Che è un sol Che va ad anticipare il sol Della tonalità maggiore di mi bemolle maggiore Che ha come terzo grado Appunto il sol naturale Ok, si usa lidian dominant Qua ad orico Su questo secondo grado relativo Questo bemolle settima E poi niente Già abbiamo visto tutte le cose Queste L'analisi che abbiamo fatto su Vale per gli stessi accordi Anche qua giù Ok Vi consiglio di ascoltare Questo brano Perché è stupendo È veramente poetica La melodia Per i tempi Veramente soluzioni armoniche Modernissime Grandissimo Django Reinhard E se non lo conoscete Dovete ascoltarlo È il suo brano più famoso Minor Swing Che si è sentito in tantissimi Come dire Video Film Di quegli anni Appunto L'inizio del Novecento E niente Ti auguro un buono studio Spero che questa analisi Ti sia piaciuta Se sei qua per la prima volta Iscriviti al canale Metti un mi piace Lascia un commento E ci vediamo Alla prossima Analisi O al prossimo video A presto Ciao